È nuovamente allagato il sottopasso di via Fiumalbo che collega l'Ostiense al quartiere di Giardino di Roma. La strada era stata chiusa ai primi di febbraio a causa di un furto di rame nei cavi di alimentazione dell'impianto idrovoro. Fuori uso le pompe di sollevamento, il tunnel è divenuto ben presto una piscina. A tutti gli effetti, il prolungamento delle antiche vasche romane rinvenute di recente, pochi metri più in là. I residenti, che a più riprese avevano segnalato le criticità di una zona ad evidente rischio idrogeologico, si sono ritrovati paralizzati, costretti a convivere con disagi quotidiani. Anche se non sta piovendo, l'acqua fiora perché qua c'è una falda sotto. Quindi dobbiamo presupporre che questa falda si sia scavata, un suo canale proprio, e stia uscendo da qualche parte. Le pompe non attaccano e l'acqua ce l'abbiamo nel quartiere. Questa è una strada importante che permette a chi è che viene dall'Ostiense di accedere a questo quartiere. La gente per andare a prendere il treno qui a Casa Bernocchi hanno tante difficoltà, soprattutto i ragazzi che vanno a scuola. L'S15 per noi è un servizio fondamentale. Il problema è che non è un autobus normale, è un bus turistico, ce l'hanno letteralmente prestato. Però il ponte di via di Malafede è alto due metri e mezzo, l'autobus è alto oltre tre metri. È chiaro che non ci può passare. Quindi noi ci troviamo col quartiere completamente chiuso, le entrate e le uscite. Due sono le entrate e le uscite, dalla Cristoforo Colombo e via di Malafede, che è messa malissimo. Il banto stradale sta cedendo. Qui speriamo di risolvere il problema perché la mattina andiamo tutti a lavorare, i ragazzi vanno a scuola. Qui l'S15, ripeto, è fondamentale perché collega l'EUR, porta i ragazzi a piramide a prendere la metropolitana, quindi tutti gli altri servizi. Per noi è un problema enorme, siamo letteralmente bloccati qua. Le istituzioni, municipio, dipartimento, comune di Roma ci hanno completamente abbandonati. Che cosa dobbiamo fare per essere ascoltati? Oppure ci vogliamo preparare per l'estate con le sedie sdrai a prendere il sole sulla nostra piscina privata a Giardino di Roma? Forse pensano questo le istituzioni. Abbiamo fatto una commissione il 18 marzo, sono state stabilite alcune cose. Arriviamo adesso al 2 aprile e non sappiamo ancora cosa stanno facendo. È arrivata la protezione civile, ha svoltato le vasche per calcolare i tempi di riempimento. Sono pochi, sono meno di 30 ore per riempirsi un'altra volta e senza piovere. Quindi, visto che il Dipartimento ha fatto già degli accertamenti, ha messo già fuori un cronoprogramma e ha offerto la propria ditta per fare questi lavori, cosa aspettiamo?